Anno dopo anno l'Istat segue il nostro Paese con il rapporto annuale che quest'anno è giunto alla 31esima edizione. Un rapporto che vuole studiare e che vuole dare conto delle grandi trasformazioni nella vita sociale, economica e demografica del nostro Paese. Un rapporto che ci aiuta anche a scoprire e a valorizzare le risorse che sono presenti in Italia. Risorse che come quest'anno abbiamo voluto sottolineare riguardano vari aspetti della nostra vita ma in particolare quest'anno vogliamo accendere una luce per valorizzare i nostri giovani, le giovani donne e i giovani uomini che vivono in Italia e che lavorano e che studiano e che contribuiscono al progresso del nostro Paese. Una risorsa che va sostenuta, valorizzata ed aiutata. L'Istat produce questo rapporto anche per essere utile a tutti coloro che devono prendere decisioni di policy, quindi ai policy makers e anche a tutte le persone che hanno interessi di studio per tutti i fenomeni sociali, economici e demografici. Da ultimo è importante ricordare che lo studio della nostra realtà non può non considerare anche quelle che sono le disuguaglianze presenti. Mettere in luce le disuguaglianze è un modo per cominciare a risolverle, disuguaglianze che si muovono lungo una linea geografica ma anche lungo una linea di genere e lungo una linea di età. Da oggi il nostro rapporto è disponibile sul sito, potete scaricarlo con semplicità, con tutti i moduli aggiuntivi e tutti gli approfondimenti e per questo che con grande piacere voglio augurare a tutti buona lettura del 31esimo rapporto dell'Istat. Grazie. 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 Grazie.